Buon pomeriggio, buon sabato, comincia ufficialmente anche la Silver League, il girone del nostro sabato pomeriggio sbordoniano, quindicesima edizione dopo la Platinum, la prima giornata di ieri sera che ha regalato tante emozioni e soprattutto tante spettacole e colpi di scena. Va di scena a questo punto la Silver. Primo match, i ammacchiaioli di Aiello Jacopino, ex Mignotti in Camp Forest, che torna allo sbordonelli, che torna in avanti, gioca a punta. Esordio invece per i Patatinaikos di Luigi Morano. E allora, sono due compagini abbastanza nuove, pochi volti conosciuti, i due Aiello per gli ammacchiaioli. Andiamo a vedere un po' le formazioni, Casacca, Fluo per i Patatinaikos, che si schierano con Morano, Gianluca in porto, il fratello di Luigi. Difesa a tre, con De Colossi, qui dietro sono Ciancio al centro, a destra Caridei. A sinistra, Varriale, centrocampo a tre, con Tedesco, con Gelato e Morano. In avanti, Sori Aniello. Intanto, proprio Luigi Morano, in area di rigore. Riesce a chiudersi e a mettere questo pallone fuori la formazione dei ammacchiaioli, che si schiera. Non importa massa. A destra c'è Filippo Aiello. Occhio qua lo scambio tra Jacopino e Scarpato. Intanto, allora, c'è a destra abbiamo detto Aiello. Al centro già mi sono dimenticato, anche a sinistra, perfetto, dobbiamo andare a richiedere. Intanto, Gelato, la porta, dentro con la punta, sul fondo. Quindi al centro Bottoni e a sinistra Romano, centrocampo con Scarpato e... Grasso, se non erro. Sì. Sì, Grasso, Barbato, a centrocampo, vediamo un po', con Scarpato e in avanti c'è Jacopino. Ok, scoperta la formazione in maglia bianca 0-0. Ieri in Platinum, tre punti conquistati all'AC Wimbledon contro l'Aston Villa, tre punti conquistati all'El Salvador in rimonta contro i Bastardi Senzagloria. Tre punti pesanti, invece, anche per l'Atletico, ma non troppo, che ha vinto la partita contro i Los Bandoleros. E allora, non ci sono i Silver, che si preannuncia abbastanza ignorante. Basta vedere i nomi delle compagini scritte nel girone del sabato pomeriggio. Dove ci sono, a parte gli ammacchiali e appunto patatinai, così ci sono ovviamente gli Asmatici. Ancora una volta in Silver. Per di fumo, giocheranno alle ore 17.30, mentre alle 16.30 ci sarà la compagine di Marco Collaro, con gli LSNG, che affronteranno quella che probabilmente la testa di serie di questo girone, i Golden Boys, riposano, perché il girone è a 7, così come quello di Platinum, i Real Madrid, tutti i girone 8, sono 5, Gold, Titanium e Star con 8 squadre, a 7 invece la Silver e la Platinum, una questione propriamente organizzativa. E allora, per la Champions invece il discorso sarà molto simile a quello della precedente edizione. Per quanto riguarda la Silver, chi vince andrà in Champions diretta. La seconda potrebbe trovarsi in un preliminare, che probabilmente verrà istituito più in là. Dalla Starra ne avanzeranno le prime 5, dalla Platinum le prime 3, e dalla Gold le prime 4, dalla Titanium le prime 3. E appunto ha la Silver, come la scorsa elezione, i campioni. E allora, parte il rinvio di Bottone, pressato, cari dei, anche Morano, Jacopino. Può correre a sinistra, fondo. Silver che nell'ultima edizione, la 14esima, sta vinta ragazzi Montesanto di Fabio De Rosa, che ha lasciato l'incarico del capitano a Forcillo, che giocherà nella Gold League. Con i Peaky Boys. Anzi in Titanium, scusate, ma in Gold. Gironi che si giocheranno, quello della Gold è la domenica, pomeriggio, tra i 17, 18, 19 e 20. Dopodiché ci sarà la Starra, a seguire. Qui palla dietro, per Tedesco. Tedesco, finta il tiro, salta il suo avversario, poi entra in aria, cambiando passo, va col mancino. Palo di Tedesco, grande azione personale, grande accelerazione. Prova a metterla fuori, la formazione maglia bianca. Con qualche difficoltà, la pressione è alta, cari dei. L'avanza è sterza, c'è Ciancio dietro, servito. Varriale, vai del possesso. C'è un corner battuto, colpo di testa, con pallone sul fondo. La porta gelato, che allarga verso Varriale. Tocco per Tedesco, prova il numero, va a chiusura. Occhio alla formazione in maglia bianca, palla lunga verso Jacopino. Esce Morano. Avanza Caridei, scarica per gelato. Tocco 1-2, la punta. Andiamo un po', fondo. Palla allargata da Varriale, anzi, era ancora Tedesco, ora Ciancio. Gelato. Scambia con Morano, pallone che arriva a Soraniello. Morano col destro, deviato. Esce in presa. Il portiere della formazione in maglia bianca. Rimbia massa. Altissimo e lungo. Fondo. Gelato combatte. Passa Tedesco. Destro di Tedesco. Smanaccia. Massa. Battuto il corner. In area Tedesco. Palla fuori. Sale Filippo. La porta. Somiglia molto a Biarnason in questa edizione. Filippo Aiello. Un'eternità col mignotti in Canforest, così come Jacopino, che ora taglia il campo. E viene chiuso da Soraniello. Avanza ancora la formazione in maglia bianca. Chiude ancora Soraniello. Prova a ripartire con una sterzata. Morano. Ancora giropalla. Patatinaikos. Avanza Soraniello. Anzi, gelato per Soraniello. Ancora lo scambio tra i due. Arriva Filippo. Punizione. Non chiamano la distanza. Allora calcia di prima. Palgone però impreciso. E allora giropalla ancora. Della formazione in casacca. Sempre 0-0. Più volte sfiorato il vantaggio dalla formazione del Patatinaikos. Per ora si difende a denti stretti. La squadra è a macchiaioli. Soraniello. Prova a cercare qualcuno. Si allarga Ciancio. Cerca la porta. Uscita straordinaria di Petto. E poi il destro alto di Tedesco. Grande uscita di Caridei. Sale Tedesco. Punta 2. Salta il primo. Si appoggia a Soraniello. Si gira sinistro. Blocca. Impresa. Massa. Mamma i piedi. Ma c'è sempre lì in mezzo. Un giocatore in casacca gialla. 1-2. Destro ancora. Prova la trivela. Filippo. Col destro. Cerca. Scarpato. Non mi ha risposto le due e mezza. Occhio a questo pallone nello spazio. Grandissimo intervento di Morano in chiusura su Jacopino. Primo squillo pericoloso della squadra degli ammacchiaioli che provano un rago scarpato. C'è la protezione di Tedesco e mette il corpo avanti e conquista il fondo. Ancora lo scarico. Tedesco. Sterza. E punta ancora il suo avversario grasso. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. Tedesco. Non riesce ad aprire. C'è una direzione rimessa. Soraniello. Punta. 1-2. Palla messa fuori. Jacopino prova a riandare. La copertura vediamo un po'. C'è una rimessa. Non si sblocca ancora il match. Si va con le mani. Jacopino lotta. Occhio a questo pallone arriva ancora. Jacopino. L'uscita di Morano. C'è fallo su di lui. Morano lungo linea. Aggredito. Soraniello. Che si gira. Gelato. Ancora per Soraniello. Interviene Filippo. Si fa vedere. Barbato. C'è Jacopino. Palla larga. Sterza. Ancora Filippo Aiello. Mezzo a due. Bel numero. Jacopino. Lavora il pallone. La formazione di Yamaha Chiaroli. Nello spazio. Morano in uscita. Tedesco. Si accenta. Soraniello. Allarga. Dentro il pallone di Varriale. Poi c'è un rimpallo. Ancora Varriale. La domestica. Cerca il pallonetto. Ne scavalca un paio. Deve allontanare la difesa in maglia bianca. Attacco di Barbato. Scarpato. Prova a lottare. Sterza così. Aiello. Jacopino. Cross. Caccio d'angolo. Pochi al corner. Batte Jacopino. Saltano Barbato. E Scarpato. Cross. La trova. Scarpato. Due volte. Allontana Caridei. Poi al volo. Ancora Barbato. Il corpo Sorianillo. Si lotta. Così. Greco-romana. Vediamo chi la vince. Punizione. Scadistino. Vediamo poi c'è una punizione. Barbato. Destro a giro. Fuori. Filio me lo dai a me? Oppure c'è un gruppo di zingari qua fuori. Che è molto felice di rivederti. Sale. Tedesco. Anzi era Varriale. Ora Tedesco. Ancora il duetto. Il cross. Diventa un tiro. Smanaccia. Massa. Corner. Tedesco. Occhio ai saltatori. Colpo di testa di Varriale. Poi la palla si incolla nel piede di Caridei. Dietro per Morano. Palleggia male. Parte Barbato. Si allunga Barbato. Prova la trivelala. Sale. Tedesco. Salva. Massa. Grande risposta. Grande risposta di Massa. C'è un cross deviato. Palla che rimane lì. Ancora il salvataggio. Non è finita. È ancora Massa. Clamoroso. Si rimane 0-0. Si salvano in più e più occasioni a Macchiaioli. Jacopino. Palla dentro. Morano. Se ne va. Varriale. In aria. Mancino. Ancora corner. Già battuto. Tra Varriale e Tedesco. Finta. Vediamo se si appoggia. Non lo fa. Ne ha tre avanti. Si lotta lì. Ancora Morano. Ancora Ciancio. Tedesco. Destro rasoterra. E stavolta non riesce ad arrivarci Massa. La sblocca. Tedesco. 1-0. Tra tanti salvataggi il tiro probabilmente meno irresistibile. È andato in rete. Tanto tiro deviato. Corner. Va scarpato dalla bandierina. Cross morbido. Mette fuori Varriale. Occhio alla rimessa battuta. Si riparte con Varriale. Sterza subisce una carica. Si appoggia a gelato. Tedesco. Dentro. Varriale. 1-2. Alta. Colpo di testa di Ciancio. Sta arrivando Cari Dei. In qualche modo il pallone è incollato al suolo. Morano. Prova a scendere a destra. Sterza. Resiste. Mette il piede scarpato. Rimessa. Si va con le mani. Gelato. Dentro. Pessoa Rianillo. Tocca per Varriale punta. 2-0. Trova il gol Varriale. Patati Naikos che raddoppia. Ci ha provato di Banfella. Zubattata diretta. Barbato. Primo tempo. 2-0. Per i Patati Naikos. Sugli ammacchiaioli. Tutto pronto per la ripresa di questo primo match della Silver League. Dell'edizione 15 dello Sbordone League. Giornata 1. In questo momento 2-0. Per i Patati Naikos. Sugli ammacchiaioli. E allora a seguire Golden Boys e SNG. Oggi, dopodiché, sarà la volta degli asmatici che chiuderanno questo sabato pomeriggio. Tiveranno contro i perdi fumo. Già visti in amichevole. Molto positiva la prima uscita dei perdi fumo la settimana scorsa. Ciancio per tedesco che viene ormai a prendersi il pallone ovunque. E allora costruisce lui di là, verso Barriale. Continua la manovra di costruzione. Ovviamente con calma porta i due gol di vantaggio. La squadra in maglia gialla tedesco. La porta alla nasconde Mancino. 3-0 magia di tedesco. Prova scarpato a sorprendere il portiere. Subbattuta. Seconda volta. Ancora a fondo. Ancora a nasconderla c'è tedesco che poggia dietro a Cari Dei. Ancora 1-2. Tedesco prova ad accendersi. Ancora una volta. Calcio d'angolo. Inarrestabile fino a questo momento. Il fantasista della squadra di Patatinaikos parte il cross al volo. Fondo. Massa. Lancio lungo. Lunghissimo. Qualche modo. Attenzione. Contatto. Vediamo un po' di chi era però. Il calcione. Cari Dei. Ancora tedesco. Barriale. Arriva il destro. Palla fuori. Prova Jacopino. In due tempi. Morano. Subito. Per il compagno. Lungo linea cercare Gigi Morano. Pallone lunghissimo. Altro pallone recuperato. Pallonetto. Salva. Massa. Qui. Cestina l'occasione tedesco. Sul 3 a 0. Barriale. Di via. Rimessa. Palla in area di rigore. Jacopino. Morano. Inbucata. Steso a terra ancora. Morano. Intanto arriva. Barriale col destro. Sul fondo. Ancora tedesco. Ancora con una frusta. Deviata. E rimessa. Per la formazione dei patati naikos. Continuano a spingere. Nonostante il 3 a 0. Barriale. Prova a cambiare. Mette fuori la difesa. Filippo. Poi Jacopino. Timido. Morano. Ancora il piede di Jacopino. C'è punizione. Si gira tedesco. Punta l'uomo. Lo salta. Imbucata. Esce massa. Ma con le mani. Prova a difenderla a Barbato. Arriva anche. Aiello. Tedesco la ritrova. Pallo di mano. Si gira e se ne va. Filippo Aiello. La porta di sola. Poi esagera. Lora Ciancio. Va lui. Tocco per Tedesco. Tedesco la piazza. Ottimo lancio per Barbato. Si gira e calcia. Alta. Cari dei. Tedesco. Anzi variale. Ora Tedesco. 1-2. Salva massa. Che poi va con le mani. A cercare i due attaccanti. Sono Barbato e Jacopino. Barbato prova a metterla giù. In mezzo a due. Non può passare. Non c'è fallo però. Tedesco. Variale. Scarpato mette in corner. Battuto il caccio d'angolo subito. Palla fuori. Tedesco. Esagera. Allora la copertura. Palla dietro verso massa. Che cerca il destro lungo. Copre. Poi Ciancio. Soria Nello. Passa il pallone a Tedesco. Tocco dove non c'è un compagno. C'è Scarpato. Ma in verticale deviata. Ciancio. Ancora Soria Nello. Cambia tutto. Pesca Tedesco. Che controlla. La punta e va da Morano. 1-2. Prova col sinistro. Ancora massa. Blocca. Lancia massa. Caridei col piedone. Sponda di Morano per Tedesco. Sale anche Variale. La compagna sempre. Tedesco salta secco il suo avversario. Appoggia Variale. Tocco ancora. Provano ad entrare col pallone nella porta. Il destro. Il pallone. Ancora in rete. Ha segnato Ice Cream. Gelato. 4-0. A valanga in questo momento. La formazione di Patatinaikos all'esordio totale. Assoluto. Allo sbordone League. Si presenta così. Biglietto da visita interessante. Fino a questo momento Poker Dassi. Tacco di Filippo. Chiude Variale. Tedesco la nasconde. Da questa parte Soria Nello. Lancio morbido. al volo in chiusura. Poi Filippo mette giù. E riallarga il pallone a Romano. Anzi a Grasso. Che sale viene chiusa. Gelato. Sperza. Tocca. A Tedesco. Variale. Ancora. Dietro. Destro. Fuori. Passa ancora. E poi va col Mancino. Deviata da Massa. La conclusione di Soria Nello. Corner. Battuto da Teddy. Contatto in aria. Si continua. Ancora Gelato. Va giù. Punizione. Morano. Dentro. E poi Mancino Massa. si gioca una porta sola da un bel po' di tempo. Morano. Nel pallone Caridei dall'altro lato della fascia. Scarico verso Gelato. Tocco 1-2. Morano sbatte. Il rinvio della difesa in maglia bianca. Prova a ripartire. Jacopino. 3 contro 3. Vediamo un po'. Tocco per Scarpato. Si gira bene. 4 contro 3. Vediamo l'azione degli ammazzi ai oli. Jacopino sviene col destro. Allora Tedesco. La porta Tedesco. Scambia col compagno. Deviata. Massa. Ancora lancio lungo perché ora le scuole sono lunghe. Caridei. Si ciancio. Mette fuori. Barbato. La tocca. Varriale. Mette fuori. Palla Jacopino. Che cerca l'incursione di Filippo. Ancora Aiello. Che col calcione. Aiello. Cross. Nessuno la tocca. Riparte. Gelato. Si propone anche Morano. Gelato glielo. Gli dà il pallone. Intervento è scivolata. Mancato. Ancora Gelato. Lotta. Ringhia. Ancora Morano nell'aria. Tocco fuori. Tedesco. Suola. E poi per Caridei. Che da lì non sbaglia. Fa 5 a 0. Anche il gigante. Caridei. Barbato. Fuori. Ancora Tedesco. Che affonda. Sul lato centrale. Va col sinistro. Murato. Soria Nillo. Entra in aria. Sterza ancora. Soria Nillo. Porta vuota. Variale. Praticamente è una porta americana. Palla dentro. Non controlla stavolta Soria Nillo. Occhio a quei due. Barbato prova ad andare. Ciancio si lotta. Spalla. E spalla. Duello tra giganti. Barbato prova ad andare. Due volte. Ciancio non lo molla. Caridei. Guarda. Il suo compagno lottare. E ora prova a mettere un piede. Come se il fatto non fosse il suo. Caridei. Ha segnato. Ora se ne lava le mani. Si mette lì. E passeggia. Fitta di Jacopino. Occhio a quell'area. Checkvar. Checkvar spallata. Non con il braccio. L'ha allargato dopo. Il colpo era arrivato con la spalla. Quindi ci può stare. Aiello. Grande aggancio qua. Poi Pennella. Colpetto Ciancio. Morano. Prova ad andarsene. Scimolata di Filippo. Saltata. Morano. La punta all'incrocio. Di... Soria Nillo. E son sei. E allora è andato Caridei in porta. Visto che stava giochicchiando a caso. Perché sta lo zoom? L'hanno messo in porta il gigante. Che però già sta iniziando a camminare. Oltre la rata di rigore. Morano col mancino. Massa. Due alla fine. Mentre il pallone è largo dalla parte di... Gelato. Tedesco. Ruleta. Entra in aria. Suola. Dentro. Allarga. E salva tutto massa. Patto del caccio d'angolo. Non passa questo pallone. Non ci fallo. Prova a salire. Perde il pallone. Allora Varriale. Col tacco. Tedesco. La piazza a giro. Sul fondo. Ok perché ci ha provato a salire scalpato conquistando un caccio d'angolo. Mancano 60 secondi alla fine di questo primo match della Silver League. Iacopino si fa vedere a Iacopino. Iacopino si fa vedere a Iacopino. Filippo che riceve. Ancora per Iacopino. Il cross smanaccia. Cari dei. Poi Barbato la mette giù. Vada a Iacopino. Punta. Cari dei. Ancora calcio d'angolo. Forse l'ultima. Aiello. Scarpato. La trova. Gelato. Fa correre. Tedesco. Altra azione. Potenzialmente pericolosissima. È un 5 contro 2. Toccono 2. Tedesco ancora. Si gira. Vogliono. Fa segnare Morano. Paramassa. Finisce 6 a 0. Ottima la prima. Per il patati Naikos. E allora siamo qua con Teddi. Tedesco. Adore di una partita straordinaria. Colui che costruisce il gioco da dietro per il patati Naikos. Che salta l'uomo. E che oggi ha fatto gli straordinari. Quanti voi le hai fatto? 2. 2 gol. Vincete 6 a 0. Contro una squadra che anche era l'esordio. 6 a 0. Praticamente padroni del campo. In un certo punto è diventata una porta americana. Buon esordio per i tuoi. Che squadra siete? Soprattutto. Come vi collocate in questa silver? Ora vedrete un altro paio di squadre. Però si inizia la grande. Sì. Abbiamo iniziato bene questa partita. Inizialmente anche. L'abbiamo messo sotto. Però anche se loro si comportavano molto bene. Poi si sono sfaldati alla fine. Sì. Si sono allungati. Si sono calati. E voi comunque avete due o tre intese a livello di squadra che penso di giocare insieme. Tipo tu e Barriale. No. No? No? Non siamo da molto tempo. Però non abbiamo mai giocato. E allora. Obiettivo minimo? No. Puntiamo soprattutto a divertirci. Prima di tutto. Perché appunto è la prima volta che facciamo un torno insieme. Poi sì. Per la... Ma dedica per la prestazione e per l'otto in pagella. A Barriale e Caridei. E allora. Complimenti a te di Tedesco. Lo salutiamo. Ciao. Ciao patatina. Ciao. Ciao. Ciao.